Una sola vittoria in campionato e allora il Nereto vuole riscattarsi al comunale contro il Porto d'Ascoli, la rivelazione del campionato. Nereto che parte con il piede sull'acceleratore viene fermato solo dalla traversa sulla conclusione sferrata da Sant'Angelo. Nereto subito pericoloso che trova anche il gol del vantaggio con Boito che trafigge testa, risultato che si sblocca. Nereto in vantaggio, un avvio da incorniciare anche se alla distanza cresce il Porto d'Ascoli. C'è bisogno dell'intervento del giovane Diglio per evitare il gol dell'1-1 che ad ogni modo arriverà nel breve volgere con la sfortunata autorete di Iara. Il Porto d'Ascoli pareggia ma il Nereto avrebbe la chance di tornare avanti con Boito il migliore della squadra di Bitetto ma da qui è il Porto d'Ascoli a farsi preferire diverse le occasioni qui con Verdesi. Dalla distanza ancora Diglio ad evitare lo svantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa il Porto d'Ascoli vuole ribaltare il risultato con Battista che si accentra e colpisce l'incrocio dei pali. Ancora Battista tra i più attivi qui nel tentativo di realizzare l'1-2 interviene su Diglio che rimane a terra per qualche istante ma il Porto d'Ascoli a segnare nel finale con Napolano. Nulla da fare per Diglio nel frangente Porto d'Ascoli che ottiene quindi tre punti in trasferta e consolida un'ottima posizione di classifica in piena zona playoff. Altra sconfitta per il Nereto al comunale. Nereto 1-Porto d'Ascoli 2. La squadra è stata comunque messa bene in campo, abbiamo cercato di limitare soprattutto le loro forate offensive perché con i due belli rapidi e veloci ci creavano sempre qualche problemino però ugualmente credo che a conclusioni verso la porta siamo quasi alla pari per cui è una partita giocata, una partita giocata persa purtroppo per l'ennesima volta, in casa purtroppo per l'ennesima volta e adesso dobbiamo cercare comunque di andare avanti. Io mi dispero, non è possibile che possa perdurare questo stato di cose. Dobbiamo aggiustarci perché ci dobbiamo aggiustare ancora di più però questo servirà in futuro. Adesso nell'immediato, a cominciare anche da mercoledì, dobbiamo continuare a mettere non solo quello che abbiamo messo finora ma molto molto di più. Mister, io ho visto una buona mezz'ora da parte del Nereto però è mancata un po' la reazione dopo il 2-1 subito, questa è la mia impressione. L'impressione è che chiaramente lì davanti abbiamo anche un po' sofferto davanti a noi perché comunque ha fatto entrare il nuovo arrivato Montani che è una mezzala, trequartista e lui è entrato per la prima volta, è arrivato due giorni fa per cui c'era poco da poter arrivare davanti alla porta. Comunque in alcune occasioni ci siamo arrivati anche con Boito che è stato recuperato poi del resto, anche il Porto San Giorgio bisogna dargli merito, insomma è una squadra che ha adesso 21 punti se non vado errato per cui è una squadra bella solida noi abbiamo cercato in quella mezz'ora ma soprattutto nel primo tempo di scardinare anche questa loro forte fase difensiva e ci siamo riusciti in alcune occasioni. è chiaro che dobbiamo essere anche noi un po' più incisivi e dobbiamo anche rimpinguare anche la rosa. Sono soddisfatto perché oggi era un passaggio molto importante nella nostra stagione era uno scontro diretto che sapevamo che poteva avere un valore estremamente importante e non abbiamo approcciato bene la partita abbiamo fatto un brutto primo tempo e ci abbiamo messo un po' a capire le difficoltà che non solo il campo ma anche il valore dell'avversario ci poteva portare e poi nel secondo tempo invece abbiamo non facendo niente di straordinario ma abbiamo alzato il ritmo abbiamo migliorato qualche giocata abbiamo capito anche che tipo di partita andava fatta su questo terreno di gioco e credo che alla fine la vittoria sia meritata. Mister, a questo punto l'obiettivo qual è del Porto d'Ascoli? È quello di domenica scorsa e l'obiettivo è sempre quello di salvare questa squadra perché guardando le squadre che ci stanno dietro chiaramente sappiamo che tantissime di quelle squadre alla fine del campionato non saranno lì quindi l'obiettivo è cercare di fare i più punti possibile e di cercare di portare la nave in porto il nostro obiettivo è chiaro, non cambia nulla oggi era uno sconto diretto dove dovevamo raccogliere punti sono venuti i tre punti e quindi chiaramente è un risultato che premia anche il lavoro settimanale però l'obiettivo deve essere ben chiaro e soprattutto non deve cambiare